Buongiorno ciccetta buona. Oh, buongiorno. Buongiorno cane. Buongiorno Matisse. Buongiorno. 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 Nel frattempo uno si è sistemato già qui, ma io devo fare il letto e si sposterà. Buongiorno. Signorino bello. Potreste gentilmente spostarti. Devo fare il letto. Ecco, facciamo così. Ho il letto con una gomba misteriosa. Una gomba che fa il FUSA credo. Che cosa c'è qua sotto? È un mistero. Ha una forma strana. Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Eh Matisse. Ah, sei pure congo? Dai, vieni fuori. Ho appena preso su tutti i peli. Ho appena preso su tutti i peli. Ho appena preso su tutti i peli. Un'altra cosa che voglio fare adesso è cercare su internet un copridivano. A parte che mi è rimasto un po' macchiato da quando sono stati mali i gattini prima che mettessi gli asciugamani e poi è tutto rovinato con i fili tirati. Quello di Benz è bellissimo ma costa tanto e al momento, magari aspetto alla tredicesima, non so, vediamo per farlo. E allora volevo vedere su Amazon se c'era giusto per rivestire quelli un po' elastici, se c'è per Shazlong e intanto rivestirlo così perché insomma comincia a essere impresentabile. Per quanto adori questo colore, mi piace tantissimo, lo rivorrei uguale. Bene qui abbiamo abbastanza pulito in generale tutto, diciamo mediamente, però oggi va bene così. Ti ricordi di questo che è sparito da un po'? Pronto? Pronto? E guardate che atleticità! Via! Ah, ha corso veramente! Pensavo stesse fermo! Ascettate Musico Sì, sì. Grazie a tutti.